I riflettori dell'Expo 2020 di Dubai si sono accesi sull'industria marchigiana Fileni che nel 2021 ha sfondato i 500 milioni di fatturato confermandosi il terzo player nazionale leader nelle carni bianche d'agricoltura biologica. A Dubai, in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, la Fileni è stata al centro della diffusione della mission del distretto biologico marchigiano attraverso il convegno La Rigenerazione come Bene Comune. Serata dedicata a Fileni che è stata conclusa da una cena show cooking curata dallo chef Max Antoni all'M Hotel, uno degli alberghi più iconici di Dubai. Colossi industriali come Fileni ma non solo, ci sono anche diverse start-up innovative che si stanno mettendo in mostra nella vetrina emiratina a cominciare dalla Cagliese Townet. Siamo un'azienda che produce sistemi di telecomunicazione e sistemi di energia green dedicati soprattutto a soluzioni per la videosorveglianza e sistemi di smart city con sensoristica ambientale. Qui a Dubai stiamo presentando la nostra ultima soluzione che si chiama Sfera e siamo orgogliosi di aver integrato le nostre migliori tecnologie per presentarle nel mercato di Dubai. L'esperienza è iniziata qualche mese fa al Gitex Future Star dove siamo stati selezionati come semifinalisti di un concorso per le smart city e grazie alla Regione Marche procediamo con lo sviluppo dei contatti che abbiamo intrapreso al Gitex per la distribuzione dei nostri prodotti nel mercato medio orientale. Senior è una startup che si occupa di IoT e sensori, in particolare del progetto MasterSense. e volevamo ringraziare la Regione Marche per il contributo che ci ha offerto e per l'occasione che ci ha fornito di venire qui a Dubai a presentare il nostro prodotto, il nostro progetto e di conoscere altre aziende che lavorano nel nostro ambito per poter creare una rete di aziende e poter creare un progetto ancora più grande. Noi siamo un'azienda che crede molto in questo mercato in quanto c'è uno sviluppo molto importante nel settore del riciclaggio dei materiali inerti da riutilizzare nelle costruzioni, sia che siano costruzioni più di strade che di palazzi, diciamo grattacili.